Protagonisti che vincono non si cambiano, l'hanno pensata proprio così i dirigenti del Casaranno hanno inteso premiare gli artefici della stagione del triplete, campionato più Coppa Italia di Lettanti Puglia, più Coppa Italia di Lettanti Nazionale. Ed allora, dopo la conferma di Marcello Pitino come direttore sportivo dei Rossazzurri, ecco che i Salentini hanno deciso di rinnovare la fiducia pure al tecnico dell'ultima soddisfacente annata agonistica, Pasquale De Candia che si appresta dopo due esaltanti stagioni in eccellenza a vivere la prima esperienza in Serie D da capo allenatore. Facile immaginare sin da ora un Casaranno protagonista ad altissimi livelli anche nella prossima quarta serie. Chi vuole raggiungere la vincitrice dell'ultimo campionato? Il Brindisi impegnato in questi giorni nella finale nazionale dei play-off. I Messapici domenica scorsa hanno battuto 1-0 l'Agropoli in casa nella partita d'andata e domenica prossima proveranno a completare l'opera in campagna nella gara di ritorno. Le altre invece sono già proiettate verso la prossima stagione. La Forti Saltamura, che con i gradi di matricola ha mancato per un solo punto l'accesso ai play-off, ha scelto di sostituire il tecnico delle ultime positive stagioni, Salvatore Maurelli, con Fabio Prosperi, ex San Severo. Il direttore generale Giuseppe Barracchia e il direttore sportivo Vincenzo Saponieri sono a lavoro per allestire un organico di alto profilo. Si lavora per colpi importanti in tutti i reparti, rivolgendo uno sguardo anche al mercato di serie D. Piace ad esempio Damian Salto della Nocerina per la difesa idem. Il laterale offensivo Francesco Potenza, ex Gravina. Tutto tace ancora a Barletta in assenza di notizie ufficiali. Si aspettano sempre novità circa la possibile riapertura parziale del Cosimo Puttilli. Radiomercato racconta di un sondaggio con Massimiliano Tangorra per la panchina biancorossa. Ha già scelto il nuovo allenatore Il Corato, che ha affidato il suo progetto ambizioso a Fabio Di Domenico. Punta ad essere tra le protagoniste anche il Molfetta Calcio, che ripartirà invece da Renato Bartoli come timoniere. Non ci sono novità a Trani. Il timore dei tifosi è che il titolo della Vigor possa finire in altre città. L'Unione Calcio inoltre si appresta ad ufficializzare Gigi Di Simone come allenatore ed Aldo Papagni come direttore dell'area tecnica. Quest'ultimo non solo si occuperà di settore giovanile dopo la separazione con Renzo Ferrante, ma fungerà da supervisore di tutta l'attività agonistica dei biseliesi. Raffica sulle altre panchine. Francesco Bonetti resta a bieste. Gigi Bruno a Dottranto. Marcello Iannacone al San Marco. Mimmo Oliva all'altra. Matricola Ugento. Aspettano l'ufficialità del ripescaggio. Infine Martina che ripartirà da Giacomo Maraciulo. E Deghi Calcio che ha ribadito la fiducia ad Andrea Salvatore.